tutti aspettavano questo numero sulle spalle questo nome Eudin hai fatto una gran partita ti sei messo la squadra anche sulle spalle nei momenti giusti hai segnato hai fatto godere ma tutta la squadra si è mossa nel migliore dei modi oggi abbiamo fatto una grandissima partita una partita dura io mi cobrava sempre di più mi mancava una partita così e avevo fatto adesso abbiamo vinto però domani c'è una finale durissima non abbiamo vinto niente ancora dobbiamo giocare con la testa domani senti il segreto di oggi perché poi siete stati anche sfortunati in determinati momenti anche quando siete andati in vantaggio e purtroppo Paolo Palmacci ha fatto quell'autogol o quel rimbalzo che non ha aiutato Raffaele che però si è rifatto nel finale con quella grande parata c'è tutto oggi anche in qualche decisione degli arbitri che poteva anche non essere così tanto giusta diciamo così sì partita dura sono così si sbaglia prende gol è così dai abbiamo fatto molto molto buono bene e adesso è riposare che non abbiamo vinto niente domani un'altra partita durissima ecco domani terracina che gara ti aspetti una bella gara bellissima di si giocare teratina è una bella squadra dobbiamo ancora dar un po' di più per vinti ma non abbiamo vinto niente adesso dobbiamo ancora farlo dobbiamo ancora farlo